Sono molto onorato di essere qui, lo prendo come una riconoscenza. Io ho lasciato la Valle d'Osta in 1947, sono andato a Parigi, avevo 17 anni e mezzo, e sono restato 25 anni in Francia, e sono tornato in 1972. In 1972 ho riscoperto la Valle d'Osta, che non la conoscevo prima, perché non avevamo macchine, venivamo giù a Osta, a piedi, ritornavo a piedi, e sono stato meravigliato. È una ballata che mi sembra di essere in famiglia con tutti, scendo a Osta conosco tutti, mi fa sempre piacere, e cerchiamo di conservarla il più lontano possibile così.